Una buona notizia, finalmente dopo tanti 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 anni, tante amministrazioni, sono stati fatti gli asfalti nel quartiere della Kona. Ora, il problema, come vedete, è un altro. Qual è il problema? Il problema è che si sono dimenticati un tombino basso, molto molto basso. Ci sono stati già quattro incidenti, tra cui un ciclista che è volato per provare il nuovo asfalto senza tuta. Guardate qui, si rompono le macchine, si rompono gli assi ed è il comune di Teramo, cioè noi, ad essere denunciati. Mi spiegate com'è possibile lasciare una roba del genere? Guardate qua il dislivello, guardate. È incredibile, guardate qui, guardate. Chi ha collaudato questo lavoro? Vi sembra un lavoro ben fatto? È incredibile che nessuno lo abbia segnalato. Due giorni di pericolo, due giorni in cui le automobili, specialmente di notte, guardate. Guardate il casino, guardate che cosa sta succedendo. Guardate lì, è pazzesco. Continuiamo così, questa è un'opera pubblica a Teramo, città. Grazie a tutti.